Il nodo coniglio applicato serve per costruire il nodo coniglio intorno a due strutture fisse come due alberi e utilizzare il nodo per la struttura base ad esempio di un armo. Per costruire questo nodo iniziate costruendo alla base di un lungo spezzone di corda un nodo 8 semplice che sarà la struttura base del nodo coniglio, cioè la struttura centrale. Fate passare tutta la corda che avete all'interno di questo nodo. A questo punto, per costruire la vostra prima orecchia del coniglio, girate intorno alla struttura che avete scelto come struttura portante per la prima vostra orecchia del coniglio, dunque entrate nell'occhiello superiore del vostro nodo 8. Bloccate la vostra orecchia del coniglio girando intorno alla base del nodo 8 costruendo la seconda spira della base del nodo, dunque entrate all'interno dell'occhiello superiore. Costruite la vostra seconda orecchia del coniglio ed entrate all'interno del vostro occhiello superiore, passando tra le due corde il nodo. A questo punto costruite la vostra terza spira del coniglio e passate al di sotto della corda di carico, girate intorno ad entrambe le orecchie del coniglio, dunque continuate a inseguire la vostra corda di carico nell'occhiello inferiore del nodo coniglio che avrà a questo punto 3 spire. Nella parte superiore, chiudendo questo codino di corda, avrete costruito le due spire superiori. per essere sicuri che il nodo coniglio è costruito in maniera corretta dovete avere 3 spire alla base del nodo, 2 spire nella parte superiore. Accostate in maniera corretta il nodo e in questo modo avete concluso il vostro nodo coniglio applicato. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti